La giornata di oggi non la dimenticherei mai? Mai, mai, è possibile che la dimentico. Il primo gol tra i professionisti è stata un'emozione incredibile. Aggiungo qualcosa, il primo gol tra i professionisti avevi fatto le prove in Coppa Italia, al novantesimo, quindi decisivo, sotto la tua curva. Cosa c'è di più bello? Contaci quest'azione. Non è stato tutto così veloce che sinceramente nemmeno mi ricordo, quindi troppa adrenalina. Te la ricordo io, hai fatto un cross per De Sogus, ennesimo intervento di Bisogno che questa sera ha fatto una partita straordinaria, però non ha fatto i conti che sul tapin c'era Marco Dellemone. Meno male, mi sono trovato lì e ho detto, ma la butto dentro per forza. Tra qualche giorno sei maggiorenne? Giusto? Sì. Hai fatto un bel regalo? Sì, meno male. Che sensazione ha fatto correre sotto la tua curva? È indescrivibile, non te lo saprei dire. È stata proprio una cosa che non avevo mai provato. Però l'importanza dei tre punti la puoi dire? Sì, vabbè, era da tanto che non trovavamo questa vittoria e meno male. Sono sia contento per il gol, ma soprattutto perché abbiamo ritrovato la strada giusta. Ti dico ancora un'altra cosa Marco, tu sei entrato alla mezz'ora al posto di Cuppone, due palle che sembravano perse e te le sei andate a recuperare con grandissima cattiveria. Sei entrato con il piglio giù. Sì, volevo fare di tutto, volevo fare gol, mi volevo divertire, non mi vengono parole, sincero. Allora, chiudo come ho detto al servizio in diretta. Auguri Marco che sia il primo di una lunga sette. Grazie, arrivederci. Che voto ti dai domani sul giornale? Mettitelo da solo. No, non lo metto. Mettilo, sei bravo a scuola, mi hanno detto. Sette. Allora, ti diamo qualcosa di più.